Mancavano pochi minuti alla chiusura quando due soggetti hanno fatto eruzione all'interno della tabaccheria di corso 20 settembre di Casarano, fuggendo con i contanti contenuti nel registratore di cassa, circa 500 euro. L'attività commerciale è situata su una strada centrale di Casarano, spesso trafficata e che porta a più punti di uscita del paese. I malviventi, dopo aver arraffato il bottino, sono fuggiti prendendo la via per matino. Viaggiavano a bordo di un'autovettura scura, una Opel. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia che hanno raccolto la denuncia del titolare fortunatamente per i presenti solo tanta paura, sotto shock il proprietario. I balordi non avevano armi ma con aggressività si sono fatti consegnare l'incasso.